Una situazione critica si sta manifestando da più tempo a Corigliano Rossano sul fronte della gestione degli impianti di depurazione che risultano sottodimensionati rispetto alla crescita demografica. Il commissario Arpacale Emilio Enrico ha recentemente lanciato un appello urgente a tutti gli amministratori calabresi affinché si assumano l'impegno di investire nell'adeguamento delle infrastrutture. Dove per esempio gli impianti di trattamento e depurazione non sono adeguati al fabbisogno o cosiddette abitanti equivalenti, dove il sistema di raccolta dei refli urbani non è tutto integro, c'è qualche falla, allora occorre veramente da parte di tutte le amministrazioni comunali, di tutti i cittadini, un maggior impegno. Noi siamo sicuri che assieme ai sindaci miglioreremo la qualità dell'ambiente e la qualità delle acque non solo di balneazione ma in generale dei fiumi, dei laghi della nostra bella regione Calabria. Uno dei casi emblematici è quello di Dido Sant'Angelo a Rossano, un importante impianto di depurazione progettato originariamente per servire una popolazione di 20.000 abitanti. Attualmente il sistema operativo sta affrontando cicli di lavorazione pari al doppio della sua capacità progettuale, ignorando anche l'aumento stagionale della popolazione dovuto al turismo estivo. L'inadeguatezza dei depuratori rappresenta una minaccia concreta per l'ambiente e la salute pubblica, oltre a influenzare negativamente il settore dell'edilizia. Le conseguenze di questa situazione problematica rischiano di riversarsi anche sullo sviluppo del settore edilizio. Con la costruzione di nuove abitazioni, l'allaccio ai depuratori è un aspetto fondamentale per garantire una corretta gestione dei reflui fognari e delle acque di scarico. La mancanza di adeguati impianti di depurazione potrebbe ostacolare la costruzione di nuove case, causando ritardi nei progetti edilizi e possibili disagi per i cittadini.